Come ti trasformo le linee in chiaroscuro Mi sa che il colore lo impasto con un altro pennello perché sennò me lo inquino questo Quindi prendo questo pennello qui Adesso sto impostando appena appena C'è un disegno leggero non so se si vede Se andate su YouTube ci sono tutte queste dirette documentate Nei quali mi sono studiato tutto il soggetto A carboncino, a matite colorate L'ho studiato in 50.000 maniere diverse Per cui poi ho preso un pezzo di carta da lucido L'ho messo sopra il disegno migliore che ho fatto Me lo sono ricalcato Me lo sono ricalcato L'ho ingrandito a dimensione Sul foglio di carta gli ho dato dietro sul retro grafite Stecca di grafite così Questa Poi l'ho girato e l'ho messo Adesso non ce l'ho sotto ma non ve lo posso per vedere Insegna la tavola l'ho riportato con la carta carbone Cioè la carta carbone è fatta Fatta da me Ma immagino che lo conosci quel metodo Se non lo conosci te lo consiglio Qui è troppo duro Ok Ok Che io questa cosa Oggi stavo pensando Praticamente ho ricominciato a lavorare C'ho un impegno fisso Prima mi ero Come dire Io oramai ero nella fase dell'umarel Come dicono Invece c'ho praticamente un impegno fisso Il Il martedì Il giovedì Il venerdì Il sabato e la domenica Con progetti vari E sto addirittura studiando la tecnica nuova Che è la Tavoletta Per oggi ci fermiamo qui Ma domani c'è un'altra lezione in 5 minuti Quindi Iscriviti al canale Clicca qui sotto Vieni a trovare sui social E vieni a chiacchierare con me Su Twitch Ciao 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 Ciao